La guerra delle stagioni teatrali a Teramo si sta combattendo a suon di carte bollate e di fide. Il Comune ne ha appena inviata una da Abruzzo Circuito Spettacolo, al giudicatario unico del Bando per la gestione del teatro comunale, intimandogli di concedere 15 date gratuite alla Primo Riccitelli per la sua stagione di prosa. Sindaco, come andrà a finire questa guerra del teatro? Davvero, quando si tratta di cultura, non ci dovrebbero essere guerre. La presa di posizione della CS non ha spiegazioni, c'è una delibera di giunta e va rispettata e la CS è stata diffidata a rispettare la delibera di giunta perché la delibera di giunta è un atto amministrativo dell'ente proprietario dell'immobile è previsto nella convenzione che ci siano giornate gratuite per il Comune ed è previsto nella convenzione che le giornate gratuite il Comune le utilizzi a proprio uso e consumo. La Riccitelli fa parte del nostro patrimonio culturale, da sempre e quindi io ritengo che la Riccitelli debba fare la stagione. Secondo lei non è giusto che la Riccitelli possa contribuire economicamente anche al mantenimento del teatro comunale, visto che ci fa una stagione di prosa? Assolutamente sì. Io avevo già detto ai responsabili della CS che il Comune era pronto a non dare nemmeno una giornata gratuita alla Riccitelli in modo che la Riccitelli avrebbe pagato le preve giornate e avrebbe contribuito al mantenimento del cineteatro. La risposta di Abruzzo Circuito Spettacolo non si fa attendere. Il Presidente Federico Fiorenza ribadisce che alcune delle giornate richieste dal Comune per la Riccitelli non sono disponibili perché occupate dalla programmazione di ACS programmazione che è stata a suo tempo consegnata al Comune stesso e che parte integrante del progetto vincitore del bando e dunque obbligo contrattuale tra le parti. Grazie mille.